Via! Benvenuti, dopo la buona festa di Marquardia ci ha passato, ora si comincia l'incontro del Babbo Natale a posto, vedo se sto a fare con la tua mano. Ciao ragazzi, appena arrivata la cultura, ora arriva l'arte, ecco la mia pittura, vendete al mercatino delusato, tanto vale a migliore 10 centesimi.